Per l'intro? Che cazzo devo fare per l'intro? Sì, sì, di una cagata Dico una cagata? Tanto edux diceva delle cagate Tanto poi vedrà questo live Continuerà a dire Lo dico perché so che intanto vedrà questo live E mi insulterà poi tranquillamente Con calma Fai pronto? 5, 4, 3, 2, 1 Vai! E buonasera a tutti amici di Glicerud Io sono il Pololoco E sicuramente farò degli intro meglio di edux Ciao! Ah ecco basta, è finito? Eh certo, che cazzo devo dire? Ok Benvenuti a tutti belli e brutti Direi Chiudiamo questo Potremmo già chiudere dopo questi due inizi di merda Ci vediamo martedì prossimo Ci vediamo già martedì prossimo Allora, che cosa abbiamo detto? Cosa regaliamo? Regaliamo come primo premio Regaliamo The Last Remnant Che è un gioco che a Fabio è piaciuto poco Come hanno detto, no? Sì, sì, pochissimo Ho finito Se c'era il platino sul PC E l'ho platinato Era Ecco Che è un gran gioco di ruolo Della Square Della Square Enix Se hai preso una pausa da un Final Fantasy E hai fatto un gioco bello A un certo punto Ho fatto E probabilmente forse uno È l'ultimo Penso il gioco di ruolo Che la Square Enix ha fatto uscire il PC Sì, forse sì Cate la pagina Intanto scrivo a tutti di ricaricare la pagina Ok E poi come secondo premio invece c'è Awesomenauts Che è un MOBA molto carino Però te e Fabio non credo tu l'abbiamo mai giocato Ce l'abbiamo giocato No È un MOBA 4 contro 4 a scorrimento Praticamente fatto come un videogioco di quelli vecchi a scorrimento Orizzontale Molto carino Tipo Tipo R-Type Ghost in Goblin Tipo così Esattamente E poi come ultimo uno dei giochi che Double Dragon Double Dragon Esatto Tipo Double Dragon E poi come ultimo Terzo premio Come terzo classificato Un gioco che praticamente io ai tempi del mio Del mio Siga Mega Drive L'avevo Avevo fuso il mio Siga Mega Drive con quel gioco Che era Speedball 2 E hanno fatto la versione HD Adesso ve la regaliamo Cioè quindi senza È come quello dello Z1000 È come il latte No quella era HD Ah no era HD Era? Non lo so Era HD Era HD Ah va bene Perfetto direi che Dove sei? Tra l'altro quindi vogliamo dire Priva scanso dei equivoci Che Non si possono vincere due chiavi per la stessa persona oggi? Sì Non si possono esatto Diciamo già prima Non si possono vincere più di una chiave per volta Quindi se non vi piace il gioco che è in primo premio O secondo premio O terzo premio Non partecipate E aspettate quello per lo successivo Nel senso Comunque di solito Abbiamo le domande le faremo in ordine di importanza del gioco Quindi prima Last Remnant Poi Awesome Notes E poi Speedball 2 HD Quindi Suppongo che non ci sia comunque nessuno A meno che non lo abbiano già Il gioco Che non si sa mai Non dovrebbero esserci problemi di sorta Allora Intanto Mentre aspettiamo che Arrivino un po' tutti Facciamoci una partita Partita all'Earthstone Poi Come abbiamo detto Dopo Aarthstone Ci sarà Mount Your Friends Quella meraviglia di Mount Your Friends Quella meraviglia assoluta Di Mount Your Friends Tra l'altro E poi E poi E poi Come al solito Con l'aggiunta magari di voi Udis Mentre giocate con noi E Con l'aggiunta di voi Udis Faremo un disegno Deciderete voi Deciderete voi che disegno Intanto Già scrivete poi in chat Cosa vorreste che disegnasse Fabio Forse io Ma non so se riesco a disegnare E gestire il tutto Tu sei la mano dietro alla telecamera Esatto Quindi sarà un po' difficile Esatto Sarà molto complicato E magari Voi ci potrete mandare I vostri disegni Via Twitter Adesso poi Vi dirò come fare I giochi li faremo Tra Mount Your Friends E Quello che ci sarà Prima di Di Family Feud Direi Ah è tessitela Hai cagato subito Un tessitela Ho cagato un tessitela Sì Ho Improventato il mio Mazzo bestia Paura È Improved Powered by Improved Powered by Po lo loco Però Powered by È il po loco Eh Powered by È il po loco Disegnate il logo D'inglizia Poi sarebbe il poio Credo addirittura Addirittura Perché il poio Stai ragionandoci O sei Perché dice che sei in attesa Ah no È che Mi era scordatamente Fini il turno Ok Come me l'altra volta Che sono stato lì Che parlavo Parlavo Ah ma È il mio turno Allora Perché ammiravo il ragno Tessitela Ammiravo Ok Prego Non mettere nella mano Nessuna bestia casuale Ma sei una merda Sei eh Disegnate il logo Di Glicerud Ma no È troppo facile È facile Nel senso No vabbè Però potremmo Cioè il logo Ludis Ludis Proprio in In sé per sé Potrebbe essere anche carino Però Disegniamo noi E disegnate anche voi Però Lo disegnate tutti insieme Anche voi Tutti insieme Adesso vediamo un po' Se ci esce qualcosa di più Qualcosa di meglio Se no Disegnate il logo Di Glicerud Durante l'ultima L'ultimo settore Allora Vediamo un po' Cosa mi Cosa mi ammolli Rantola di morte Ok Praticamente hai fatto un mazzo Con tutti i personaggi Della Però Parecchie di Naxxonass Sono bestie Quindi si integrano Molto bene Sì In effetti Sì Ho visto che però Di solito Nelle Nelle Anche nella seconda ala I premi Sono tipo della Sono le carte Che vengono usate Anche nella prima Tra l'altro Non sono sempre le stesse Sono più o meno sempre le stesse Potrebbe non essere una brutta cosa Nel senso Fare tipo I mazzi Le carte base 100 monete E tipo 120 Quelle specifiche Di una certa Di un certo tipo Però se È una sola L'espansione Finora Quindi Forse non Forse non Au Au Anche E anche 4x4 Eppure E vabbè Qualcos'altro No 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 Ma è dopo Ecco Dopo Dice Allora Vediamo Se posso fare L'orsetto Miscia È sempre L'orsetto Miscia Vabbè ma è voluto quel nome Dai non ci credo Sì secondo me sì Secondo me sì Allora Facciamo una cosa Visto che qua Miscia Com'è così Miscia No Non me lo ricordo No Non è no Facciamo una cosa Visto che La cosa Così Sennò poi Diventa pelosa Facciamo fuori Velocemente Beh così Fuocostellare Addirittura La madonna Fulmine di Pegasus Fulmine di Pegasus Sai che Fulmine di Pegasus Lo posta una volta Perché poi L'altro cavaliere Lo conosce Ah ecco Ho mai capito Sta cazzata Che voleva dire Non lo so Non lo so Non lo so Cioè ogni tanto C'erano delle cose Che non Non ho Particolarmente Capito Di Dei Cavaliere Dello Zodiaco Ah guarda Non è che Non ho mai seguito Tantissimo Il Cavaliere Dello Zodiaco Non l'ho mai seguito Il proprio Tanto No Sei un eretico Sei Eh no Io ero per i Dragon Ball Per quelle robe lì Perché sei più giovane Sono giovane No vabbè Ma anche Michis Gradiva più Vabbè Michis è nerd dentro Ma non è che Aspetta Non è che Michis è nerd dentro Io direi Però va bene No fate questo Non è che a lui Piacessero di più Il Cavaliere Zodiaco Perché era in amico Il Cavaliere Zodiaco E perché Il Cavaliere Zodiaco Ci poteva fare Tutte quante le figurine Ah è vero C'erano le action C'erano più action Figure È vero Mentre con Dragon Ball Cazzo da cea Cioè sì Però Ma vi mette tutte le centomila Cose Sì perché poi c'erano È vero C'erano Cinquecentomila Cavalieri In più C'erano C'erano le cose Oro Quelle Bronzo L'armatura Fatta di sugna Cose varie E i Cavalieri Calabresi No Giusto Ah non ho cambiato il nome della puntata Perdonate Quindi è il numero 4 Diventa i Cavalieri Calabresi I Cavalieri Calabresi Ok I Cavalieri 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 Calabresi Direi che questo è il nome della puntata di oggi Perfetto Comunque sono uscite tutte le carte de merda Ne sono uscite Fino ad adesso Ok Fatto E quanti de merce Quanti ne avete? Tanti Troppi Ne vogliamo parlare No Oddio De che no Dico Quanti anni abbiamo Ne dobbiamo Ah Lo dobbiamo proprio dire Ma vai fa culo tu No dai va bene Lo diciamo dai diciamolo Io ne ho 28 Io ne ho 37 Queste sono cose Nelle quale non siamo Non ci sentiamo di rispondere Di solito Solo per te Merce Ci vergogniamo un po' Dici Un pochettino No non è vero Dai Io non mi vergogno Io sono Sono libero e felice Come una farfalla Hai rotto un po' il cazzo Ho detto così Hai rotto un po' il cazzo Eh dico Eh sì Hai visto? Eh vedi però Tu hai cagato Mostri a tutto spiano Però adesso sei Uno 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 due Eh sì Eh sì Ah beh tanto Sono tutti uno uno Adesso ti riempi il ma Cosa Ti riempi il cosa Il Da 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 Igor the best Intanto si fa sentire Grazie Nel frattempo Eh no Merce Non ti volevamo offendere Tranquillo Non ti offendere L'età Dalla saggezza Dice Tony Da anche la saggina Di di solito Anche perché poi Il nostro lavoro Sarà poi andare a scoppare Per terra E noi capite Non capite male Ciao Samo È arrivato anche Samo Sta arrivando Stanno arrivando tutti Eh Ultraspace È arrivato Vedi sono tutti ritardatari Come noi Merde Che non siete altri Che voi Continuate ad arrivare Sempre in ritardo È per quello che noi facciamo Arriviamo in ritardo Perché sappiamo che voi Arrivate in ritardo Noi pensiamo a voi Per fare le 22-23 E siamo già al settimo turno Tra l'altro Eh no Ma taglia il serrano Arca miseria Vive vive il serrano Ah no Era il verano Il cimitero Esatto Eh sì Il boss del tuo cimitero È proprio il tuo cimitero Di cui stavamo parlando Stamattina Ah è vero Vedi ti ricordi Sì sì Questa carta Rigenera 5 salute Comunque Mi continuano uscite carte di merda Cioè veramente Opla Opla Ok Quasi quasi Attacco tuo Faccio una bella trade Mi sono dovuto lavare Qual è la vostra scusa Non è lavarsi Perché noi puzziamo come delle capre Vero Giusto Io Io ho fatto tipo 8 ore di lavoro Che ho cancellato Tipo mezz'ora fa Per sbaglio Quindi Passerò la notte a farlo Però va a rifarlo Ma perché sono uno stronzo Non per tanto per Sono veramente un minchione Mi sono venuti i vermi Quando ho visto che avevo schiacciato No invece che sì Mi sono venuti veramente I geloni ai piedi E dopo 8 turni Si riparte da capo Pregamente Ecco Hai detto Hai metterci Ultraspace Dice ho aperto Twitch all'8 e mezza In punto E poi me ne sono andato Eh beh Bravo Bravo Ovviamente Sei il nostro target Ultraspace Ma veramente Cazzo del pescaggio Di mani di merda Sono usciti soltanto Minion Con poco De bassa lega Cioè è veramente uno schifo Io invece Vorrei tanto mettere Una cosa che ho qua Ma non me la sento In questo momento Perché so che qualcosa Cagherai E mi Mi pare Ha rotto i coglioni Hanno rotto Cioè E che palle Hai pescato di nuovo cacca Ma sì Sono tutti i minion piccoli Cioè Però vabbè Questi peschi Oh Vedi Evoca 2iene 2-2 Quando muore Ale Carte su carte Conte ne hai 15 Io ne ho 15 Come Ho pescato anch'io Non mi ricordo Vabbè Eh sì C'era quello che pescava 2 carte Allora Vediamo un po' Oh Finalmente Vedo Vedo tanta gente Scrivete tutti Tutti Tutta la gente Che c'è in Che c'è in live Scriva Perché io valgo Sulla chat Perché io valgo Così Ma sì Chi se ne frega Scrivete tutti Perché io valgo In chat Così almeno Occupiamo la chat In maniera Fraudolenta Allora Questo qua Ah Potrei farlo Sì lo faccio 5 danni A un servitore Adieu E poi Ok E poi Basta pescare Tu Eh beh Tu me l'hai fatto pescare Ok Posto Direi che va bene così Oh bene Bravo Alla di drago Che dice Perché io valgo A tutti Tutti Igor Tonno Bluebusted Merchandry Alla di drago Perché io valgo E voi no Intanto Nel frattempo Ultraspace Devo uscirlo Vedrò registrato No Merchandry No Vabbè dai Sei perdonato Tu che puoi uscire Basta Ma ci abbiamo Tanto Io ti ho rotto le palle No Eh sì Dicono no Salta Non è tanto ritardo Rispetto al twitch Perché se lo sento In sottofondo Il twitch tuo Abbastanza rapprecinato Sì infatti vedo anche loro Le risposte sono abbastanza veloci Quindi Cosa fare? Vorrei tanto fare questo Però non me la sento Eh Sei caduto tu? È caduto intanto Fabio E viva Eh No Questo Intanto cerchiamo di recuperare Fabio Oh Eccoti Ok A posto Ogni tanto mi cadi Fornisce un cristallo di mano a vuoto Ma sì ma perché no Tanto Sei ricaduto Ah pesca una carta Puoi avere al massimo dieci cristalli Va bene Pesca una carta C'è proprio una fama Ora ti sento Mi senti? Wow 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 Allora Cosa sta succedendo? Aiuto Telefonini che suonano Ovunque Ovunque Fabio ovunque Fabio ovunque Ok Intanto schiaccio play Arriva la chiamata Chiamata in arrivo Uh Sta succedendo qualsiasi cosa Fine turno Tanto scusate ma Fabio Ci sei? Fabio C'è un problema con questa chiamata Chiamo al gruppo Richiamiamolo Oh Intanto gioco Ok ci sei? Sei vivo? Niente Mi senti? Mi senti? Non mi sente? Fabio non mi sente Intanto vabbè parlate voi quindi in chat Così almeno facciamo un dialogo Dialoghiamo Fate domande Allora Signor Mac Ci sei? Mi senti? Signor Mac Ehi Io ti sento Io ti sento Intanto Io ti sento Ora mi senti? No Non mi sente Crolla tutto Pronto? Oh Senti? Non c'ho Non sento nulla Uh Tanto sta scoppiando tutto qua E non sappiamo perché Fabio non ci sente Pronto? Mac 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 Io ti sento Martacci di pippo Mac Mac Non ti sento Sono grossi problemi nella linea di Fabio Non so per quale oscuro motivo Mi senti? Ok Finiamo la partita e riavvio Ok perfetto E intanto Vediamo un po' cosa c'è di qua Di bello Skype che esplode Si esplode Donati Gli animi hanno riavvito Fabio Si Si Direi che l'hanno riavvito Ampiamente Qua Ma tra l'altro sta succedendo qualsiasi cosa Segreto Quando un sottotitore attacca Ritorna la mano Nooo Bastardo E quindi fine turno Per me Fine turno per me Pubblicità per voi Però Skype che esplode Però È sempre pronto Allora Qua intanto Chiudiamo un po' tutti gli Skype Che ho aperto Mi sa che mi fa il carretto Amicici Temo il carretto Ok Questo è morto 448 Evviva Devo pescare qualcosa di figo Oh oh No basta Maledetto Maledetto Mi sentivo la partita in mano invece C'ho qualcun altro C'ho qualcos'altro in mano Allora Nel frattempo potrei fare Una partita Potrei fare quello che non ho ancora fatto Quindi Nella sfida di classe Poi alla fine Tanto che aspettiamo Fabio che torna Potremmo fare Quello che non ho ancora fatto Cioè la sfida del mago Datemi una mano Se l'avete già fatta E ditemi come giocarla Perché io non ci riesco Fondamentalmente Quindi È un problema Scusate Mentre sposto il Mentre sposto Il microfono Chiudo Skype Dal telefonino Ok Allora le carte Mi piacciono Sì Mi piacciono Mi piacciono Che Fabio è più forte senza Skype Esattamente Quanto pare Skype è la sua È la sua debolezza In realtà Esci da Skype Perfetto Io ho finito Sì ho finito Sì Tanto penso stia tornando Adesso vediamo un po' Sta riavviando tutta la Madonna Di Lourdes Potrei pescare Perché no Finito Fine tour Tanto arriva forse la chiamata Ci sei? Pronto? Pronto buon mech Ci sei? Questa volta? Sì adesso sì Mamma mia Ok Ho fatto nel frattempo Nel tanto che ti aspettavo Una L'unica sfida che non ho ancora finito Quella contro L'impuro Tu sei riuscito a No Aspetta Che non mi ricordo Mi sa che l'ho fatta tutte le sfide A parte quella in versione Hard Ma non ci gioco Perché tanto Non danno carte Ma sì neanche io Quando c'ho tempo Di tempo Magari ci gioco Ma non adesso Nel senso Adesso non ho nemmeno tanto L'esperienza Che diceva beh faccio quella Ma manco quella Alla fine Esattamente No mi manca La sfida La quarta sfida Quella mago Devi scrivere Battletag 2307 Addami almeno questa settimana Sì adesso ti addo Flady Allora andiamo un po' Non mi pare che l'ho fatta tutta La sfida Tu le dici le sfide di classe Quindi Sì Quello La sfida di classe del mago Dove ci sono tipo Devi avere tipo 800 segreti Ma lo sai che praticamente Le sfide Tutte e quattro Saremmo detto culo Ma tutto è fatta la prima volta Sì tutte Io le ho fatte tutte La prima Tranne questa E non ci capisco Tra l'altro Quello della Qual era quel coso Quello Il terzo boss La seconda Quello che c'ha Qual è Quello che c'ha Una cifra di vita È facilissimo 75 È facilissimo Almeno quando l'ho sconfitto io Era proprio facile 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 No è facilissimo Perché c'ha Quella cosa che praticamente Te fa tipo quanto 7 11 punti Quelle tue Sì perché se hai un mazzo Veloce Hai un mazzo rapido Ci vuole veramente niente Con un mazzo rapido Ci vuole veramente niente Cioè considera che L'ho messo là Il mio Ho tirato fuori i segucci Quindi erano diventati tipo 3 segucci Ognuno con Tipo 11 Quanto cazzo era Cioè Sì sì Concordo Eh però questo qua Io non ci riesco Non capisco Eh penso Ti devono un po' uscire Le carte Tanto io faccio Segreto Quando il tuo servitore muore Ottimo Faccio una partita Inclassificata Bravo Ah quando Non mi schiodo Dal ventesimo livello Non riesco a schiodarmi Io non mi ricordo Più che punto sono Bu L'ho rimosso Potrei Darla via Potrei Fare una trade Due per uno La faccio Via la faccio Va bene Tanto Ciao Andre2298 Che è arrivato Nel frattempo Allora Quindi abbiamo Il tempo Per fare Ancora Una o due Partite di Airstone E poi andiamo Su Mount Your Friends Mount Your Friends Ma il tuo friend Zzz 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 E guarda Che cazzo Se uscite Adesso Vedo uscire Tutte spella Su sta mano Vaffanculo Io mi sa Che ce l'ho Nel culo Un po' Perso Facile Mi sa Vediamo un po' Se faccio Una trade Faccio Due trade E Faccio Basta Che non posso fare Altro E faccio Che non posso fare Altro Tre E sono morto Niente Perfetto Tra l'altro Ci stanno Poi fanno altra Io ho appena iniziato Questa Tra l'altro Ci stanno Classi Derson Che non riesco Veramente a giocare Tipo Druid O quello che hai C'è avuto tu Io non riesco A giocarlo Non riesco Ma a me è venuta Di culo Che Questo mazzo Tutto sommato È abbastanza Decento Argon Db è arrivato Ciao Argon Intanto Ti ho attivato L'amicizia Vladi Su Ho messo Il battle tag Volendo voi Il battle tag Lo vedete 2501 Quindi Potete tranquillamente Aggiungermi Sono a livello 23 io Nel frattempo Invece Non è al 20 Sto Tra l'altro Hai visto Te quanto Eri arrivato Il mese scorso Al 20 Fatti io Do il mazzo Ci ho avuto Ah Ti è arrivato Un mazzo Cioè Non un mazzo Scusa Il dorso Delle carte Ah Fico Invece a me Ha regalato Sono arrivato Tipo al 22 Mi sembra E mi hanno regalato 4 stelle Per partire Più avanti Per partire Quello anche a me Io pure Ci ho avuto Tipo 4 o 5 stelle De bonus Ah Quelle te le danno Sempre Te le danno Sì 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 Io infatti Sono partito Che ero già 23esimo livello Perché è arrivato Al 20 E l'ho arrivato Però Perché l'ho letto Una volta Cioè in quei messaggi Ogni tanto appaiono Praticamente Se tu arrivi Al 20esimo livello Una stagione C'hai un dorso Delle carte particolare Carino Ecco perché Non riusciva a capire Tutti quanti Ce l'avevano Io non riuscivo Quello normale Base Tanto una certa Wondervale Dice io ancora Non ci sono arrivato Con questi personaggi Mi occorre Una revisione Di un mazzo Che vabbè Che detto così Vabbè Ecco appunto Io non voglio dire Non volevo dire niente Però Cioè Non è neanche carino Dire così Cioè Vabbè Allora 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 Se Vladi accettasse L'amicizia Non l'accetta Tanto che Mi sta sul cazzo Il ladro E vabbè Ho capito Cioè Cioè Nella mia mano C'ho Guarda che bello Nella mia mano C'ho Un segreto La moneta Infligge tre danni Se controlli una bestia Oppure cinque Se controlli la bestia E due carte Quella dei squinzagli Segugi Peccato che Il tavolo E non c'è nessuno C'è un servitore Ecco Perfetto Questo vi La mag Del Kirin Thor La butto via Fa un culo Fa un culo Ok A posto Dice Uno o più mazzi di carte Che ho fatto Sì avevamo capito Però Però Ditto così Cioè Usa Dei termini Allora 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 Vediamo Se stavolta Mi va di culo Ah tocca a me Scusami Scusami Elgan Elgan Limpuro Ecco E questo è quello Che da fa due danni A quel servitore Più a sinistra Che pompa Come l'odio Eh Sì Come l'odio E c'è sempre Questa cazzo di carta Non è ancora Non ha neanche Una gemmetta Quindi probabilmente Non potremmo mai Averlo nella vita Il nero destriero Che è Due tre Uno di mana Carica E rantolo di morte Infligge tre danni Al tuo eroe Sto cazzo Cioè Carica Rantolo di morte Due tre Vale uno Per carità Infligge tre danni Se muore Ma chi si è fotte Comunque le carte Che c'hanno i boss Certi sono assurde Sono Cioè Questo ovviamente Dice Che cazzo di carta Ha tirato fuori Quella Dai Non so perché L'ho messa Ho fatto una cagata Scusate Ho messo un'altra carta Che intanto Morirà subito Scusate Ma se devo Se devo parlare E giocare Nel frattempo Per me È un po' Un casino Io l'odio Il ladro Cioè Praticamente Più attacchi Del mago Praticamente Cioè Chi cosa Il Il ladro Il ladro Ha un sacco di spari Cioè Più attacchi Del mago Praticamente Cioè Sì Ne ha un sacco A quelli Uccidi Un servitore casuale Uccidi Cinque Mana No Cioè Infligge tre danni All'eroe Con uno De mana Cioè Sì Anche Anche Addirittura Quest'altro Colpo alla testa Infligge Due danni All'eroe Nemico Combo E torna Anche nella tua mano Alla fine del turno La cassa Carta Forse ne ho una Forse ne ho una Allora Finito Non riesco a capire Perché Nelle Nella Maledizione di Naxxramas Devi partire Sempre per primo Te Eh sì Forse è fatto a posto È fatto sì È un po' un'inculata In alcuni casi Oserei dire Però È veramente Fatta a posto È fatto Io tra l'altro Adesso finché Non ho Quattro cosi Non ho quattro mana Non posso mettere Niente in campo Che palle Quando un servitore Attacca il tuo Eroe Viene distrutto Ok ci sto Vai Questo segreto Mi verrà comodo Moneta Gioca la moneta E Metterà un tolo di morte Coltello perverso Cos'è L'arma dell'autorose Si chiama coltello perverso In realtà Chissà cosa Cosa ci fanno Con quel Con il manico Probabilmente È qualcosa di interessante Allora Quattro Ma quanto hai rotto il cazzo Cioè Fanculo Metto l'uovo di nerubiano Vediamo un po' se Dai forza Infliggimi due danni Al servitore a sinistra Che C'è l'uovo di nerubiano Mi va bene Nel senso Eh ti piacerebbe Infatti su quello dei puntati L'uovo di nerubiano è una rara Si Tra l'altro Eh me l'ha fatto Sai l'idiota Mi ha dato la Mi ha dato questa Eh ma infatti lo fa Infatti si Mi ha mandato A fanculo Un personaggio Cioè ha fatto tutto In un turno Ha fatto Però è rimasto Senza carte C'è da dire Quello è il coltello Di Alan Fisting Eh giusto Igor Hai ragione È vero Il coltello perverso In effetti Il coltello perverso È il coltello di Alan Sì direi che sì In effetti Non hai tutti i torti Allora Il segreto Quando il servitore muore Non muore Perché non ne ho C'ho 18 carte Dello stesso tipo Tutte uguali Perfetto Guarda è in top decking Spinto Il deficiente qua Vediamo un po' Se pesca cose Meravigliose A turno Così proprio Così di giustezza Mi incazzo Come una lince Eh Se comincia a pescare Robbe meravigliose Allora Sei E vaffanculo Ah Il tradimento Cristo Quanto ti odio Tradimento Cos'è quello Uno Uno al volo Uno No Quello che Apparente Infligge danni Dello stesso attacco A quegli adiacenti No Fanculo Metto questa Ora mi sto riempendo Di segreti Tipo Quando l'avversario Gioca un servitore Ne evoca una coppia Sotto controllo E quando il tuo eroe Viene attaccato Ottiene otto armature Che non è male Ed è È anche una cosa È anche una Comune Oltretutto Quattro nove Non lo posso So Tendo il coppio in mano Posso metterla Volendo No Tocco Trocantesimo E attacco E via Adesso Provate ad attaccarmi Merde Infligge due danni Infligge due danni Ancora Ah no Sono io Contrasto Succa Niente Magia che hai mandato Non gli fa Una fava Però questo Infligge quattro danni Ti odio Quanto ti odio Dio Quanto ti odio Dio Quanto ti odio Io odio Ah Quando tu rompi il cazzo Ma guarda tu Distrugge un servitore nemico Cioè ma poi Pure scelto Non casuale Che cazzo Cioè Prendete un fottio De carte così Cioè Non riesco a capire Allora Due Quattro Ok perfetto Due E quattro Sono segreto Questo diventa Cinquantadue Novecentoventicinque Ok a posto Mi sa che neanche stavolta Riesco a vincere Sai Nonostante questo Sia di top decking Ah anche Duplica Ah strozzo Te ce l'è rimasto male No intanto Nel frattempo Ho duplicato carte Così a cazzo Di cane Questo mi uccide Perfetto Ho finito No sono a uno Sono a uno E ho vinto Hai vinto Non aspettami che intanto Tra poco Ho finito No nel senso Gli mancano sette punti di vita Ma lo Il rido così De giustezza Ho il rido Io metto Metto tutto Va a fa' culo Metto tutto di violenza Anzi No Faccio così Metto questo Questo Così Lo metto qua Ho tre tele Sul ventesimo livello Tanto te continua A guardare No Ho 145 Non posso neanche Prendere l'arena Voi in chat Se giocate A Airston Quanto è il vostro Massimo di vittorie In arena Perché il mio E' uno Perfetto Faccio veramente Schifo ai cani Vediamo un po' Cosa posso fare qua Non posso fare niente Dovrei uccidere tutti Ma non posso farlo Sono morto Almeno ti do due baccate Vaffanculo Ti pesto Almeno arrivi a 8 Fottiti Vabbè che ce fai Ma si Chi se ne frega Segreto Aspetta Ah no Quando un tuo errore Subisce danni fatali Diventa immune Per quel turno Attenzione Perché potrei aver fatto La mossa Che mi permette di vincere Eh ma lui attacca Direttamente A te attacca Ciccio Eh no Si ma Sono immune Non può uccidermi Per questo turno Ah Rimani lì Non fare più Ok Eh però non posso No merda Non mi dire Ah no si ho vinto Ho vinto Ho vinto Incredibile Incredibile Non so come ho fatto Con una botta Di quello mi cidia Alle 7 E 1 8 Ho vinto La E col fireball L'ammazzi Ah Finalmente Esattamente Mamma mia Mamma mia Ah si adesso Non ricordo Quella carta Che dice Sì Quella carta 2 e 3 Del cavallo È È fantastica È una roba Esagerata Sì ma Anche i 3 danni Chi se ne fotte Dei 3 danni Sinceramente Facciamo un'altra sfida Ci sei Sì sì Ma io non ho capito Come si utilizza Una carta Cioè Non so Ti ricordi C'è la carta Quella gallina Sì Che c'ha 1 1 E rabbia Più 5 Rabbia Più 5 Rabbia Quando deve Sare Eh sì Quella va giocata In combinazione C'è Sì ma Tipo C'ha D'avere tipo Scudo divino Per farlo andare No Deve avere tipo Una cosa Che faccia tipo Dai 2 salute Dai 3 salute Al tuo Eh sì Giusto quello Sono carte Che puoi giocare In combinazione In un mazzo Di gimmick Di quelle proprio Infami Che è proprio Veramente Imbarazzante Ragazzi avete giocato Ad Untarned Ciao Stick Intanto No No Io sì E non mi piace No No O meglio Ci ho giocato poco Ci ho giocato poco Sono Praticamente Sono Sponato Sono infilato Dentro Un Un Una Una zona Militare Tipo Sai in World Z Che c'erano Quelle Sottospecie di Baracoi Di Militari Con i muri Di cinta Di Come si chiamano Di cemento Armato Ecco Cioè No io no Ah in DayZ In DayZ In WarZiv Dicevo WarZiv Ok E praticamente Ce n'è Ah sono David Elaboration Ciao ok Ciao Steve Ciao David Allora E Sono entrato in questo posto qua C'era un tipo 32 32 Scheletri Scheletri Zombie Mi hanno fatto il culo In media Cosa ho fatto? Ho fatto una cagata Mentre stavo parlando Vabbè farò lo stesso Nel senso Tirare giù il guffo adesso? Si tirare giù il guffo adesso E non mi ha neanche detto Stronzo Guarda che non c'è niente da Vabbè E vabbè E sono morto subito Poi sono rientrato Ho provato ad entrare in un altro di questi E sono morto di nuovo Quindi Dopo un po' poi ho smesso Ma quindi sarebbe tipo Minecraft FPS Con i zomini Un croce tra Minecraft DayZ WarZ Per la bruttezza Queste cose così Che potenzialmente potrebbe non essere neanche poi così male C'è da dire Però Oggi leggevo che c'era un nuovo Voxel map addirittura Sì l'ho letto anch'io Però l'ho letto e basta Cosa dici? Un meme Morgue voxel Tipo Una roba del genere Che però è basato su Che cosa? Che cosa ci fai lì dentro? Intanto Saluti a Quit Hai letto cosa ci devi fare In quella roba lì No aspetta Che cosa? No Lo stavo leggendo Cis Schiaccia Schiaccia Schiacciamolo Questo sì Orto online Sei spanato Nella base militare Ho imparato la mappa Memoria del gioco Ho fatto 48 ore di gioco Su stream E mi diverto Un mondo a giocarci Eeeh Ah ma tu non hai fatto niente? Hai fatto solo il danno Qualcosa? Sì sì Ho fatto Ah ma se io devo fare fine turno Cazzo Sì devi fare fine turno Eh vabbè Scusi Allora Cosa posso fare? Un belino posso fare Ma proprio un belino totale Va bene Perfetto Te pigliati sti due Sti due pattoni così Sti due danni così De l'amblè Sì Non c'ho nient'altro praticamente Quindi Ok Ok Vediamo un po' cosa Cosa Mi tocca Sì Former Lioned Ah Former Lioned Addirittura E' veterani EA E' Lioned Wow Eh sì Sì non sembrerebbe male Si chiama Ohort Online Intanto lo scrivo anche qua Nella chat Così si chiama Oh Ohort Non ho capito EA Veteran Che cosa vuol dire? Cioè quelli che hanno fatto FIFA 8 Che cosa? EA Veteran Vabbè EA Veteran Ha fatto Ciotto milioni di robe Eh dai Su Su Non essere così duro 3 5 Sì però non sembrerebbe malvagio come Oh Beta cada uno Ciao belli Ciao beta Sei Sei qualcuno dei nostri Udiz Su Youtube Oppure ci hai trovato così A caso E in tal caso Benvenuto Direi A questo punto Anche oggi mi sono dimenticato di dirvi di fare simpatico super ride nella cosa di Yotobi Non so se è ancora online Se online andate di violenza e andate a recuperare tutto quello che c'è che è rimasto nella chat di Yotobi Vabbè così io ve lo dico sempre così Quanto Cosa stavi mandando che ti ho rimandato No solo un cavalcalupi da carica quindi abbastanza poco alla fine Allora non t'ho fatto niente Non è stato niente di pericoloso Ale E via Ecco questa carta qua non è male a me non dispiace La cosa speculare che fanno 2 con 0 2 Sì sì Beh è utile per coprirse È finita 5 minuti fa E porca miseria Eh anche voi andateci Ogni volta ve lo dico Ogni volta mi dimentico tra l'altro di dirvi di andarci Allora Infligge No Non mi piace Anche perché ti ho appena detto cosa c'è in una carta Fa lo stesso Non manco l'ho sentito Guarda giuro che ne manco l'ho sentito Per dire eh Vabbè vabbè tranquillo Allora 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 Fatto ormai alla fine diciamo che sono quasi un po' tutte quelle Sì poi alla fine nel senso Vengo da Youtube Ah ok perfetto Perfetto Bene bene Perfetto Fantastico Allora Allora Non posso fare molto altro Fase di stanca del match Nel frattempo Hai già commentato beta Sei Hai un altro nome utente sul Sul canale di Youtube Allora questo cos'è In tua magia costa un un anno in meno No Bu E alle Raga tra poco Tra poco devo lasciarvi per andare a giocare a Dead Island con un amico Ma non ti vergogni Non ti vergogni Vergogna Vedi anche tu A dire giochiamo a dire giochiamo a Dead Island Poi creiamo questi mostri Questi piccoli mostri Cresciamo dei mostri Che poi decidono di andare a giocare a Dead Island con gli amici Tra l'altro Io non capisco come fondamento sul gioco E se Tu hai mai giocato Stick Hai mai giocato a A Magic Fondamentalmente O a un gioco di carte qualsiasi Funziona praticamente uguale a quei giochi lì E uno è Il simbolino giallo è l'attacco Il simbolino rosso è la vita No Rispetto a Magic è comunque molto più facile Sì è più semplice Quindi se ti fossi appassionato poi Di un gioco di carte Fossi appassionato di un gioco di carte Di giochi di carte Forse ce la faccio in italiano Sì anche Se fossi appassionato di giochi di carte Questo potrebbe essere un buon gioco per iniziare Perché È piuttosto semplice Perché ecco Diciamo Semplice ma complesso Non te ci devi sbattere Nel senso Magic Certe volte veramente Per fare un mazzo decente Te ci devi sbattere veramente di brutto È vero che Ti dà tante più possibilità Allora vede Certe Magic sì Però mi fa che garamo Yu-Gi-Oh E vabbè Allora più o meno Ah Yu-Gi-Oh non è malvagissimo No 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 Anch'io Devo dire la verità Qualche gioco suo Ad esempio Sul Super Sul Game Boy Advance Giocavo A un gioco di carte di Yu-Gi-Oh Non è male Non è male per niente Devo dire E funziona più o meno così Nel senso Non c'è l'attacco e difesa E in Yu-Gi-Oh C'è l'attacco e difesa Però funziona in maniera diversa E Magic Questo funziona come Magic Nel senso No giusto Attacco e difesa funziona come Magic Più o meno Sì mi pare che c'hanno uguale sia attacco e difesa Solo che praticamente in Magic È come se tutti i servitori Avessero provocazione Rispetto a com'è adesso Airstone Diciamo Perché non puoi attaccare al di fuori Non puoi Se c'è un mostro davanti Deve attaccare il mostro Non puoi attaccare Il mago dietro Diciamo A parte alcune magie strane Quindi funziona più o meno così Poi nelle carte Ci sono delle spiegazioni Provocazione E uno scudo Quindi devi prima uccidere Provocazioni E poi ci sono Diciamo più che altro Che forse il problema principale De Magic Era quello del Mana Sì Eh beh Sai dipende da come Cioè da cosa Nel senso là ovviamente Sì era Da sapere costruire il mazzo Però Certe volte Potete rimanere che C'hai i quattro turni E magari non riuscivi A tirare giù niente C'è Sì 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 Dipende Vabbè che anche qua Ogni tanto Tiri giù carte E dici Questa non mi serve Questa non mi serve Questa non mi serve Però se avevo Un mazzo bilanciato Più o meno problemi Non avevi Certo C'erano momenti In cui veramente E' talmente sfigato Che non usciva Mana Per nessun motivo al mondo E In questo caso invece Ti arriva un Mana A turno Quindi E' a posto In effetti Quello sì Comunque non è difficile E Se ti interessasse Se vi interessasse Perché vedo che anche Xcaus E Dice che neanche lui Ha capito bene Come funziona il gioco No va bene E' gratis Quindi in conseguenza Potete scaricare A parte che Comunque il tutorial Ti guida abbastanza Su quello che devi fare Infatti Ha fatto abbastanza bene Rispetto a Magari Magic Che ti lancia Veramente Hai rotto il coglioni Però va bene A parte quello Hai rotto i coglioni Io sono in top decking Adesso Sono nella merda Quando succede così Io sono fatto Proprio Eh sì C'è un tutorial Molto Che spiega Molto bene Poi comunque Il gioco è abbastanza facile Quindi non c'è neanche Tanto bisogno Di dover Imparare Granché Quindi se ti interessasse Iniziare a giocare E che cazzo Se ti interessasse Imparare a giocare Questo sicuramente Ma tanto guarda Come sto messo Praticamente Vinci tu Tanto Ora Non ho visto Perché non ho altro Più che altro Ho preso da poco Magic 2015 Devo dire che I boss di Airsten Sono molto più facili Sì Sì Io avevo preso Il 2014 Io Ti ricordi Una volta Ti dissi una cosa Del Magic Quello fatto Su PC Sì Che sembrava Che praticamente Il computer citasse Sì sì Ogni tanto Anch'io Io tra l'altro Avevo preso Dual of the Prince Worker Mi sembra Addirittura E non riuscivo A superare Il secondo livello Il secondo livello Con un mazzo È che purtroppo Devo usare Soltanto quello Ed era un dramma Non riuscivi A superarlo Ed era Il secondo livello E veramente Ora nel 2015 Da quello che ho capito Puoi fare i mazzi te Puoi creare i mazzi te In base a tutto quello Che c'è dentro Quindi già un po' più Ma quelli più vecchi Che erano Eri legato come mazzo Era un dramma Un dramma totale Avevo preso il 2014 Prima che Una cosa Tanto bene Tanto poi alla fine Lo so comunque No Quasi indifferente Diciamo Ma Il potere eroe Del cacciatore Sì Funziona pure Se te congelo No No Quindi se io adesso Te congelo così Tu al turno dopo Non dovresti fare Esattamente O no Forse sì Non lo so Per me sì Per me solo le armi Infatti Non funzionano Sì solo le armi È vero Sì 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 Il potere sì Il potere È un po' una cagata Eh sì In effetti Non dovresti neanche poter Usare il potere eroe In effetti In effetti sì Dicevo Ho preso Magic 2014 Poco prima che Ricevessi la chiave Beta di Airston Proprio perché Volevo giocare E Ho giocato Penso che hai vinto Sì mi sa di sì Sì Direi di sì Ecco Direi di sì 1-1 E beh minchia Prima hai fatto Una super combo Da 30 anni In un turno solo Che ho detto Ma porca puttana Mi è rimasto così Ma minchia 10 15 A lua Allora 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 Potremmo fare Potremmo fare La bella Tanto ce l'abbiamo Lo spazio Sì Abbiamo ancora 10 minuti Facciamo la bella Dai poi Mount your friends Oh la Ti stai Con un altro mazzo Eh infatti sì Vedi Sto beta Cadauno Dice Fabio se pesca La roba buona Potrebbe vincere Sì Sono uscito De merda Sono uscito Effettivamente Forza Fabio Vedi Vedi che hai I fans I fans Siamo uno a uno Proverò Un po' Non lo so Tanto sono in attesa Che Io ho Due mazzi C'ho quello E il mago Non è che ce n'ho altri Ah basta Non ne hai altri C'ho due varianti De quello bestiale Proviamo la seconda variante Io non so Ho un mazzo Che si chiama Sacerdozio Ma non sono sicuro Di che cosa cazzo Ci sia dentro Sinceramente Se non potrei usare La drannissima sprint Userò la drannissima sprint Dai Ti odio Userò la drannissima sprint Poi Via su Mount your friends Che secondo me Regalerà Molte Moltissime Gioie Ai nostri Vodizio Secondo me Secondo me Chi non conosce Quel gioco Secondo me Farà Creeremo Molta Ilarità Nei nostri Era Una cosa Che mi piaceva Tanto De Yu-Gi-Oh Era il fatto Che potevi Cambiare con le carte Le proprietà del tavolo Sì Sì Quella era molto carina Quella cosa Poi alla fine Nell'ultime Nell'ultime Espansioni C'erano delle robe Potevi fare delle robe Che dicevi Vabbè Ho perso Completamente Il conto Delle cose Che si potevano fare Delle nuove abilità Segrete Cazzo e mazzico Ogni tanto Arrivava una carta E guardavo la carta E dicevo Ma l'hai creata L'hai fatta tu È finita Questa che cazzo è Stabilità Spacca il ghiaccio Dici Ma eh Sì Che cos'è Ma l'hai disegnata te Tanta paura Per il prossimo Gioco prossimo Dicono Eh sì sì Tanta paura Dovete avere tanta paura Voi Piccoli Udiz Sì 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 Sarà tanta ilarità Provate Duel of Champions Might and Magic Personalmente lo trovo migliore È quello gratuito su Steam Se non mi sbaglio Credo È interessato Gratuito De Might of De Magic Sì Ah Might of Magic No Magic Might and Magic Duel of Champions In sé Sì Volevo provarlo In effetti Era Era curioso Però poi non ho Ancora avuto il tempo Per farlo Ragazzi posso avere Posso sapere Quanti iscritti aveva Perché io vi seguivo Da molto tempo Ma non sono mai riuscito A capire perché Non mi dice che non avete iscritti Perché noi lo abbiamo Cancellato Non abbiamo Non abbiamo messo La possibilità di seguire Di mettere il Esatto Bravo Samo Che nel frattempo Era andato a giocare A Era andato a giocare A Dead Island Con amici E' tornato per scrivere Che già sei stufato Tengono Esatto Tengono il numero di scritti Su YouTube privato Così la gente si concentra Sui loro video E non sulla loro fama Bravissimo Tra l'altro abbiamo Anche noi Un Dead Island Da giocare Ma hai fatto ricordare Oddio Ah no Quello fatto male Quello gratis Esatto Non è gratis È gratis per noi Non lo È gratis solo per noi Perché siamo fan De Dead Island Esatto Mi ama la follia Avendo comprato tutti Dead Island Ci hanno regalato 82 chiavi E questo Non lo so Ma pensa tu Io credo che sei Che dove era gratuito proprio Eh no Invece no Non è gratuito Costa anche lira di Dio Ma dai Ma tipo 15 euro Ma dai E non ce lo regalano così Tipo 15 euro Costa Pensa a te Come cazzo Sono messi male Questi Ehm Sì Beh Vabbè Vedrete Forse anche quello Lo vedrete In qualche modo Non so Sto ancora aspettando L'amico Ho comprato L'uno E Riptide Ok Perfetto E sì Anche perché Non ce n'è altro A parte quello lì Che Inflige Ma sì Fanculo Ancora Ma sì Sai che hai fatto peggio Sì ho fatto una cagata Me ne sono eroso conto dopo Mi sono eroso conto Della cagata Che ho fatto Anch'io Ti ringrazio molto Quindi Leviamo subito Sto buff Così Ecco Perfetto Vabbè Comunque Sarebbe servito Comunque Me l'avresti fatto Comunque 3 4 5 Mi sembra anche giusta come cosa Peccato che non faccia Nessuno faccia lo stesso Ma Io come la faccio impressione Che se lo sapessero tutti Che si può fare Qualcuno in più Lo farebbe Oddio che cosa Il Non mettere noto Il numero degli iscritti Ah Dici Secondo me sì La gente se ne vanta Magari Faccio 10 iscritti No Sicuramente C'è gente che se ne vanta Cioè se ne vanta tutta la vita Sicuramente Però Cioè Magari qualcuno Che non ha voglia Di Starselo A A smenacchiare Con il Ma C'hai magari Aspetta un attimo Cosa è questo? Sto guardando adesso Stavo L'odio Vintaglio del lame L'odio proprio Ma tanto tanto L'odio Vintaglio del lame Ehm Coltello perverso Glielo spacco in faccia O non glielo spacco in faccia Ma sì Se glielo spacco in faccia adesso Poi non glielo spacco in faccia più Via Perfetto Azzerato Quattro anni l'hai preso Sì infatti E non lo so Secondo me sì Qualcuno se ne vanta Assolutamente Abbiamo 5001 iscritti Benvenuto al 5003 iscritto E cose varie Ma qualcuno Magari E anche Qualcuno conviene Anche nel senso Quelli che magari Hanno pochi iscritti Magari hanno fatto Un buon video E quindi comincia ad essere Un po' più Ad avere un po' più Di visualizzazioni Fa forse È un po' più Importante Cancellare Quello che Cancellare i fatti Non lo so Non lo so Fatti non pugnette Esatto Bisognerebbe chiedere Un po' in giro Cosa cazzo è Ma porca la merda Non è manco morto Rompi i coglioni Cioè Giocato a CSGO Io lo guardo Ogni tanto No Chi è che lo chiede? Chi è? Non è John Delbo Stick Boss Boh Stick Boss No Io lo guardo Ogni tanto Però Io so come Se siete fan Di vecchia data Di glitch Sapete che Io odio Gli FPS Nonostante Giochiamo Quasi ed esclusivamente Agli FPS Quindi Cioè Sono un attimino Lui magari A te come mai Non ti piace CSGO? A parte che Prima di tutto Penso una cosa Se diciamo Vuoi giocare Spesso Non dico assolutamente Insomma Spesso An FPS Te conviene farne uno Cioè nel senso È inutile giocare A 3-4 FPS Tutti insieme Perché se no Poi non progredisci Mai un cazzo Su nessuno Vabbè sì Quello sì Detto questo A me non piace Perché Non parlo Più tanto Della grafica A parte che Non si mira Cioè veramente brutta Sta cosa che non si mira Cioè Nel frattempo Nel frattempo Nel frattempo T'ho fatto Il culo Stic ora sei sulla lista nera Ma no Ma perché Ma poverino No 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 A meno che non mi dite The Thailand Non siete mai Sulla lista nera Intanto io Con i danni Che ti devo fare Te li ho fatti Poi sapevo Che mi avresti ucciso Tutto E poi Vediamo un po' Hai mai pensato A fare una partita League of Legends Secondo me Abbiamo ripareggiato Sì ho visto Che mi hai dato Quelle quattro baccate Facciamo così Dai Prego Torna tutto Indietro Torna tutto Assuriendo Sì Torna assuriendo Nel frattempo Una mazzata Te la do così Perché ci sta bene Dicevo Secondo me League of Legends Non è un brutto gioco E Dota Anche due Molto carino Loro hanno giocato Cinco minuti League of Legends E hanno chiuso Per la vergogna Ma Secondo me Sapendo un po' Come funziona Io sai che l'altro giorno L'ho messo League of Legends Sì E poi l'ho levato Ma no Ma è bello Perché poi bisogna Cioè il problema È che bisogna sapere Come funziona Nel senso No ma c'è una parte È molto tattico È tattico Non è lento Dai È tattico È diverso la cosa Dai E poi è un altro discorso No e poi non riuscivo A trovare nulla È tattico Cioè Poi sta fermo I servitori Vanno da solo Vanno Sì ma perché Devi gestire anche Le distanze dei servitori Devi anche organizzare Che cosa Che cosa fare In un determinato momento Devi decidere Quando attaccare Quando no È tutto così Cioè Perché ho fatto sta cosa Vabbè fa lo stesso Devi organizzarti Devi organizzarti Con gli altri Con gli altri Compagni di gioco E E cercare di trovare Il momento giusto Per attaccare Determinate zone Beta è molto tattico Invece Perché bisogna In Dota Spiega un po' meglio In League of Legends Non c'è un tutorial Quindi di conseguenza Devi imparare Guardando Sai che hai perso Sì mi sa che ho perso Aspetta Te lo faccio De bene che hai perso Perso Sì E Non c'è tutorial In League of Legends Quindi ce l'hai nel culo E se non impari E Invece Dota Un po' te lo spiega Un po' ti spiega Quindi potrebbe essere Più carino Tra l'altro Dota è gratis Ed è su Steam Quindi forse Se devi Perché League of Legends No scusa Sì Sì però è su Steam Dota Invece League of Legends Deve andare a regomenare O una menata Cioè ora c'è il tutorial Su LOL Ah vedi C'è anche il tutorial Su League of Legends No io il tutorial Ho fatto Mi sono rotto il culione Nel tutorial Ho fatto il tutorial Non sapevo neanche che c'era E mi sono rotto le palle Nel tutorial Boh Ma vabbè Ma perché devi Devi avere un attimino Qualcuno che ti spiega Più o meno Come funziona la cosa Sono uscito Tanto penso ormai Baffa no Sì 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 Ora si parte di Mount of Friends Poi finito Mount of Friends Incominciamo a dare Le tre chiavi Allora 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 Mazzobestia è troppo forte Sì no ma No nel senso che Non è il mio Io parlo proprio Sì il mazzobestia Sembra che effettivamente Il bestia sia Oltre forse Quasi pure più facile Da giocare Forse il Marlock Ho organizzato bene il Marlock Poi hai tipo 32 Marlock Uno dietro l'altra E diventa veramente Ingiocabile Ingiocabile Che ne pensate Di Call of Duty O Battlefield Tu già hai risposto A questa cosa No Non ancora Aspetta ti dico prima Fare mai una live Su Bending of Isaac Sì magari se Sarò da solo Un momento in cui Sarò da solo Magari faremo una live Su Bending of Isaac Ah no Ho lettato prima Il fatto della mia L'ho neanche io Tanto vai tu Perché io non penso niente Né di Call of Duty Né di Battlefield Anzi penso Penso che Bisogna radere al suolo Tutto Tutte le due case Di produzione Ok Questo tolgo Magari che siamo In pre-show Che non lo siamo Ok Intanto apro Apriamo Apriamo L-T-B L-B-T Stick Allora aspetta A me Call of Duty Non dispiace A me piace Non ci trovo Niente di male Però Rispetto a Battlefield Più che altro Lo preferisco Perché Le mappe Sono più grandi Cioè sia Sul 3 Che sul 4 Comunque La cosa più bella Per me Di Battlefield È quella Cioè non tanto Che poi giocai In tipo 32 Contra 32 Più che quella E poi il fatto Che c'hai una mappa Più grande Che ti permette Più libertà Comprendo Beh sì Se devo scegliere Anch'io Anch'io Di Proprio Quello Fatti che non mi è piaciuto De Contest Strike Le pappe Mi sono sembrate Quasi ancora più piccole Quello Duty Sono abbastanza D'accordo Quindi era proprio Previamente Un Raggiungi direttivamente Corsa la punta Davanti E spara tutti quelli Che arrivano davanti Quello era Poi Poi Quella partita Che ho fatto io Cioè Poi il fatto Che comunque Ogni volta Ricompra Che torno Inizia il turno Di comprare Le monete Gli equipaggiamenti Non lo so Preferisco un po' Più uno Che comunque sia Cioè Volendo Non lendo La La mappa più grande Ti permette Di poter fare strategie Soprattutto se Stai in cuffia Con altri giocatori Su Battlefield Sì E concordo Anch'io su questo Anche se Comunque Non è che mi faccia Impazzire in generale Quella roba lì Allora Allora Non riesco a far vedere Aspetta che devo passare L'audio Sennò mi uccide Uh è vero L'audio è altissimo Questa che l'avevo già Settato Praticamente al minimo Ecco Music 0 SX 4 4 è già alto E belli I pipini Infatti mi ha messo 2 Anch'io ho messo 3 Belli pipini Che girano Ale No Togliamo il full screen Perché vedo che Non mi caga di pezza Quindi Aspetta Me lo tolgo pure Qui Non serve Mount your friends Ciao Mount your friends Ok E allarghiamo Ok A posto Mount your friends Online Vediamo un po' Se c'era qualcos'altro Che non abbiamo risposto In chat Xcaos Perché hai fatto questa domanda Cazzo Perché sa che Io mi inalbero Tantissimo Beh Sfrutto Samoti Che dice Ti ferisce Pd Eh certo Lui provoca Lui sa perché Lui provoca Perché non sa che Non gli rispondo Male Ciao Intanto ciao Andrea Che ci ha detto Ciao Oh mio dio Il pacco ballerina Questa è niente Ragazzi È niente Voi non avete idea Se non conoscete Questo gioco Adesso lo scoprirete E vedi da quando Ridi come Genesis Di Final Fantasy 7 Crisis Core Rido così Da sempre Ma sai che Purtroppo non ci ho mai giocato Ok Solo mi farebbe Gameboy Qualcosa Nel senso Ma non era il film Il film Il film L'animal Cosa di immazione Sì 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 No Non era Uno di quelli Non so Sai Non ancora Le versioni Per le console portate Eh Devo dire che non lo so Entro nel live E viene un pacco che gira Un pacco che gira PSP PSP Vedi PSP Avevi ragione tu Tanto ragazzi C'è veramente Pochissimo Non me lo ricordo Perché purtroppo Non ci ho mai giocato C'è veramente Pochissimo ping Tra Tra il live È fantastico Eh ma tutti Merito del 30 mega Potere della 30 mega Che figata Potremmeno lo save for work Lo volete save for work Così Preferite così O come prima Guardate Preferite in gioco Gravata con la zip O col pisellino ballerino Oppure come è Pipino ballerina Come dice Vale Vale Tanto qua c'è gente Da bannare Un'allegria Che mette pubblicità Cazzo Ban Tanto nel frattempo Ok Ah safe work Ah no no Pensa tu È il costume da lavoro Sì Lo metto Secondo te Ci bannano Se mettiamo il No È coperto Ok Voglio dire Il gioco È che Facciamo una con la zip E una senza zip Dai va bene Ha una storia bellissima Alla fine mi ha fatto piangere Dice Di fare una fatta di sette Mi piacerebbe provarlo Allora Poi 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 cos'altro Entro nella live Vedo un po' che gira Vabbè possiamo iniziare Intanto voi continuate A scrivere A fare domande A parlarci Zip a manetta Vabbè dai Facciamo prima una Not safe for work Poi metto Metto quella safe for work Vedo che piace di più Quella zip che balla Vediamo un po' Vabbè Vediamo anche se non sapete Visto che non sapete Magari che cos'è Questo gioco Credi tu Credo io Play online Aspetta non so Create server Lo faccio io Ok Lead to player No Yes Metto private Direi di sì Ok Ma quindi mi devi invitare A te Private friend Sì E non ci sei Porca puttana Sono privato Maledizione Maledizione Da ogni volta Ecco una cosa che non sapete Una cosa che non sapete Dalle nostre registrazioni Dei vecchi tempi Che ogni volta era Pronto per essere invitata Per essere invitata Alla partita Sì ok Mickey si entra Tranquillamente Cos'è Mac Eh no io non ci riesco Non capisco Perché non funziona Stiamo quei 40 minuti A capire Perché non cosa Poi schiaccio Tab e maiuscolo E vedo che sono offline Sempre Sempre Start match vado Tanto ciao a Darser Che è arrivato Arrivano tutti a queste ore improbabili Eh che finisce la cena Finisce Finisce la cena E Alle nove e mezza E anche la puntata dei segreti Penso Ah ecco Forse per quello Ciao a Darser Comunque scherzavo Se non hai provato almeno una volta Qualsiasi tipo riguardante Final Fantasy Non meriti di vivere in questo mondo No 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 Per carità Io ho giocato al 7 L'8 Tutto Finito Io ho giocato al 7 L'8 Il 9 Il 10 L'11 E il 13 No Ho giocato a quelli sui PSP No io invece ho giocato anche È vero Io ho giocato ma non ho ancora finito I primi 4 I primi 4 perché Oh cazzo Tocca a me Sì io è vero Ho il joypad Dimenticavo Sì non capisco perché Poi tra l'altro Vedo Te ti vedo con i comandi da tastiera No io ho il joypad Per dire Non lo so Lo fa sempre Il secondo giocatore ha i comandi da tastiera Per come quello che si vede Bello comunque col gatto in testa Eh No 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 Per carità Final Fantasy Quando erano belli Quando erano Final Fantasy Almeno giocati tutti Nel senso Quando erano dei Final Fantasy Non parliamo di Ma che bello con l'Aureola Il mio personaggio È molto Grusciomarx Sì Volete capire Volete sapere Come funziona Qual è lo scopo del gioco Oppure lo imparate da solo Ragazzi Ragazzuoli Lo capite da solo Ma perché c'è uno scopo del gioco C'è Wow Ok È vero Anche te vedo quella tastiera Te vedo Sì infatti Vedi Wii Guarda ecco Comunque non lo so nemmeno io Lo scopo del gioco Nel senso Alla fine Finisce che cadono Che fanno No non cadono E quindi? Eh niente È una cosa Bisogna arrivare in cima È più in alto possibile Nel senso E basta Lo sai che io Ho ancora adesso Tanti problemi Sui tasti del controller Dell'Xbox Anch'io Anch'io Piede sulla chiappa Una pecora Un pacco No non è una pecora Una capra ragazzi Eh Povera capra Una pecora Un pacco Ballerino Oddio Che cos'è Ok Ok Ce l'hai fatto Cosa sta con quella gamba incastrata Lui Ecco così Ah è vero Se può fare il team Cazzo Devo cambiare tutti i team Vabbè no Ho fatto solo uno Sono tutti uguali Tutti i cloni Sì anch'io Ce li ho tutti i cloni Non c'ho voglia Di starci lì Sai io vorrei ragionare Su cosa fare Per ogni personaggio Dal primo al cinquantesimo Una pecora Un pacco Ballerino Manca solo Saratì Manca solo Saratì Si stavo leggendo Dicevo In effetti In effetti Tanto Scrivete ancora Stai volando Guarda come balla Guarda come balla tutto Balla anche Uè Ok Quanto cazzo hai fatto Dandoti una qualche risposta Potrebbe uscire qualcosa di ambiguo Ok Allora Cercate di capirlo Senza parlarne Senza parlare Senza scrivere Vabbè lo scopo del gioco Comunque è andare Più in cima possibile Basta Fine Così almeno non diamo Ambiguità a nulla Salire più in cima possibile Io tra l'altro Ero riuscito Adesso non ci gioco più Da una settimana Questo gioco Ero riuscito a lanciarmi C'era quel momento In cui ti mollavi E ti lanciavi per aria Era bellissimo Facevo tutte le evoluzioni Avevo imparato Per bene Eh Cazzo vai Usa la gamba Ok Perfetto A posto Tanto è bellissimo Che c'è la musica Tutta epica Per una cagata Del genere La musica epica E favolosa Hai i piedi prensili Sì Oddio La foglia al centro Spettacolare Occhio Che stai per perdere Uuu Mamma mia Oh mamma mia Pericolo Non solo i piedi No Ho sbagliato Sbagliato tasto Ecco Se sentite Ma io ho sbagliato Che ho messo la mano dritta Alla quella che mi incula Quella mano Ok Y Adesso prova a lanciarmi Prova a fiondarmi Pronto Uii Uoooo Viene così No Ma tu citi i giochi Guardate Basta Fare anche te E attaccati Per una sola Per un solo arto A quel braccio lì Del tuo A quel braccio lì Poi molli tutti E poi ti fiondi Mentre stai lanciandoti Verso l'aria Molli il pulsante Del cosa che Che ti tiene Per il braccio No Vai sul sicuro Devi rimanere Con un solo cosa E poi mollare Al volo L'arto Se lo fai Voli E' bellissimo Ma cos'è Vedi Eccolo lì Come cazzo fai Tu sei per la testa Sei Sei un breakdancer Uuuu Zaccari Petrocelli Sono tutti Italoamericani I miei Praticamente Zaccari Ma perché C'hanno pure i nomi Sto vedendo adesso Sì adesso lo vizi Sì ma adesso Non te ne eri troppo attento A vedere No cazzo La terza volta Il coso tra penzoloni No ogni volta Schiacciando Cazzo stai facendo Non lo so Allora X Allora Mi lancio Mi appoggio Tolgo Pronto? Vai No ho mancato Non ce l'ho fatta Allora Y B Pronto mi sono messo Veramente bene Mi sono messo B Oh ce l'ho fatta Mamma mia Pericolo B E ora come faccio? Guarda tu L'hai preso proprio bene Porca Eva Come faccio ora? Ardi in libertà C'è l'ho fatta Ce l'ho fatta Aiza Esinaugl Il tuo si chiama Ma il brutto lo sai Che io vedi ancora Non so i tanti Breakdancer Breakdancer Sei in momento Pisello Don Donazzo Mosser Censi Naive Con Dice E poi c'è Chi non sa Che trasmettete su Twitch Vi aspetto per un'ora e mezza Su YouTube No Naive Porca miseria Vedi Non ti ho mai visto su YouTube Anche se probabilmente hai un altro nome su YouTube Quindi se hai un altro nome scrivicelo Vabbè ormai si è diventato un pro Sei un pro Tarzan Mac Stai cercando di chiudere Ovviamente Ho capito Che tu trovi sempre Tutti i metagiocchi Il metagioco Non è vero Adesso mi fiondo di nuovo Aspetta No Fiondati Non ci riesco Non ci riesco Non ci riesco a Non ci riesco a Fiondame C'ho problemi nella fionda No lungo No E ora Che cosa faccio X Y Y Y Vai dai che perdi Dai che perdi Ma tu pensa questo tipo in quattro C'è Se questo in quattro fa voluto No 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 ho sbagliato il tasto Pare più un ragno pare Che essere umano X Y Vai Guardate un bastardo maledetto schifoso Ah No 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 ho sbagliato No 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 Sì L'ho fatta E andiamo No no Questo ma non sono Sono un guardone Non commento mai No commenta Commenta Comunque grazie Sono contento che Tu sia un nostro Un nostro Udi su Youtube Posizione yoga Non so come ho fatto Non so bene come ho fatto A ritornare su Credeva di saper volare Mi si chiamava quello Orribile personaggio Che usavo prima Non mi ricordo Non l'ho letto Philip Cheers Eh mi sa che ho perso Ah no ma figurati Guarda che sei lì Guarda che sei lì Dai se ce l'ho fatta io 25 secondi Te ce la fai tranquillo No Si o eh Oh no Oh no No sei incastrato Tantissimo Ah no Ok No dai che ce la fai Eh ma io non mi ricordo Non mi ricordo mai Si cazzo dei tasti Hai capito Dai 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 vai 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 Manca pochissimo Non andare in panico 5 4 Si ce la fai Niente tifo anche per l'avversario È fantastico questo gioco Perché proprio ti fa proprio tifare No No Sono appoggiato per la Y Perché io Ho sempre in mente i tasti della PS3 Quindi prima è la X È la A Ok No Y Y È la Tata Non lo dicevi lui Eh Si è vero un po' Ah X Allora Tra l'altro Se reggono in piedi sfidando qualsiasi regge da gravità Regge da fisica Esatto No no Ho sbagliato il tasto Oh cazzo Ma Virgilio Potters Il buono Virgilio Potters Virgilio Potters Virgilio Potters Vedi sai che c'è una fonte È una fonte di nomi Per i nostri personaggi Infinita Non ci riuscirò mai Non ci riuscirò mai Eh beh Non c'è che adesso Eeeh È mancato È mancato È quindi vinto così Madonna Tra l'altro neanche con un lancio Ho proprio premuto il tasto sbagliato E sono andato giù Come un pill Rifintica Voglio la rivincita In verticale ancora No per te Eh che cazzo fa Vabbè play online Ti invito io Ti invito io Vieni tu Ok Sì 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 Facciamo ancora una in vertical E poi proviamo l'orizzontale Ah sì Ce ne sa pure altre Sì 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 Io che ho provato solo Vento spazio Orizzontale verticale Come cazzo stanno Ma quanto c'è giocato No no c'è scritto Dai L'ho letto Ah sono io Ted Bottin Nel frattempo Del Sudafrica Argento per il Bronzo per il Sudafrica Attenzione Cos'è una sorta di Così Ho deciso così Ma così Ah è vero Ora vogliamo il tizio Con la zip Scusate La prossima puntata La prossima cosa Esco dalla cosa E faccio il Faccio il Save for work Scusate Tanto facciamo ancora Almeno due o tre partite Se non di più Perché poi non durano tantissimo O meglio Sembra che durino pochissimo Ma poi in realtà durano Nel senso Se sei anche bravino Quelli i Sorloschi Yeee Corto su tutto Corto su tutto Tutto corto